300.000 italiani a tavola in agriturismo per la Pasqua e tra questi anche moltissimi abruzzesi è quanto emerge da una stima di col diretti dalla quale si evidenzia come sia sempre forte la ricerca della tranquillità in campagna lontano dai ritmi e dal rumore della città. I circa 23.000 agriturismi presenti nella penisola svolgono anche un'importante funzione di traino per le economie locali come dimostrano le zone del terremoto dove nonostante le difficoltà si stima un aumento del 10% delle presenze secondo col diretti. L'Abruzzo è in linea con il trend nazionale dice col diretti Abruzzo ma certamente bisogna fare un distinguo tra le zone comprese nel cratere che ancora fanno fatica a ripartire e quelle fuori dal cratere. Per quanto riguarda le zone direttamente provate dal sisma si nota certamente un piccolo miglioramento rispetto allo scorso anno la speranza è che comunque le cose migliorino sempre di più complice proprio l'appeal suscitato dalle tradizioni alimentari di cui gli agriturismi sono custodi. Altro discorso per le zone fuori dal cratere dove le prenotazioni sono fortemente aumentate rispetto allo scorso anno facendo registrare nella gran parte dei casi il tutto esaurito. Gettonatissima la Pasqua con pranzo e passeggiata annessa ma il boom di prenotazioni si è registrato anche per Pasquetta. Per chi non ha prenotato sarà sicuramente difficile trovare un posto a tavola dice col diretti la capacità di mantenere inalterate le tradizioni alimentari nel tempo con menù di Pasqua locali a base di prodotti di stagione a chilometro zero e biologici è la qualità più apprezzata dagli ospiti degli agriturismi dove in continua crescita anche l'offerta di servizi aggiuntivi come passeggiata all'aria aperta a piedi e in bicicletta, trekking, lezione ed equitazione e tiro con l'arco ma anche corsi in cucina o di orticoltura. A livello nazionale col diretti stima che per la Pasqua 2018 gli agriturismi siano fra le mete privilegiate visto che la paura del terrorismo internazionale condiziona la scelta di viaggio di quasi un italiano su quattro che vuole restare lontano da ansia e preoccupazioni privilegiando il relax e la tranquillità delle vacanze in campagna grazie alla bellezza dei paesaggi e alla qualità dell'offerta gastronomica.